Dopo numerosi accertamenti, i carabinieri di Noale hanno identificato una 17enne di origine rom, residente nel Veronese, tra molti degli autori di furto con la classica tecnica dell'abbraccio, in questo caso a danno di un anziano di Salzano. L'ha atteso all'uscita di un supermercato per poi seguirlo fino a casa. A quel punto l'ha avvicinato per chiedergli la classica informazione e poi l'ha abbracciato col pretesto di ringraziarlo, avanzando in questo caso anche delle proposte a sfondo sessuale, probabilmente per entrare ancora più in contatto fisico e potergli sfilare l'orologio, riuscendoci. Dopodiché è fuggita di corsa con una refurtiva del valore stimato di oltre 10.000 euro. Una volta a casa l'anziano si è reso conto del furto e a sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Identificata, la 17enne è stata denunciata per furto aggravato. Grazie. Grazie.